Si è sentito male in una casa isolata e in una zona impervia. A salvarlo sono stati i vigili del fuoco di Bibiena ed Arezzo grazie all'elicottero Drago. È successo venerdì mattina in località Tofanaia, nel comune di Chiusi della Verna. Gli elisocorritori sono stati calati con il verricello in prossimità dell'abitazione per verificare le condizioni sanitarie dell'uomo. Nel frattempo sono stati elitrasportati altri due vigili del fuoco arrivati da Bibiena per trasportare il paziente fuori dalla casa. Confrontati i parametri sanitari con il medico della sala operativa del 118, è stato ritenuto idoneo il trasferimento del paziente con il velivolo dei pompieri all'ospedale San Donato di Arezzo.